E' un giovane, ma veramente valorosissimo, bravo e per cui l'ho sempre sostenuto. Fa sempre piacere vedere un giovane con talento, potrebbe essere un esempio per altri giovani. Questo signore, che è un vero signore, ha un amore per la sua città che mi ha trasmesso. Il maestro è un giovanissimo, ha 25 anni, so che ha fatto il primo concerto a 16 anni, di questi tempi la vedo molto dura, soprattutto con la musica, quindi ci sono tantissimi talenti anche nella musica, come Jacopo. Jacopo Sivari di Pescassevoli per noi è diventato addirittura uno dei personaggi e degli ambasciatori della cultura abruzzesi nel mondo. E' importante che i giovani credano in qualità, in qualità, in qualità. E' soprattutto che esercitino le proprie attività mossi da una grande passione interiore. Jacopo non è solo bravo in tutte le sue attività umane, non solo in quelle legate alla musica, ma condisce le proprie azioni da una grande forza interiore, da una grande passione che possono essere di esempio per gli altri giovani e devono essere di esempio per gli altri giovani. Quindi io anzi mi auguro di poterlo, come direi, per il futuro nominare testimonial in positivo come modello per i giovani abruzzesi e non solo. Grazie a voi e buon canzio per tutti. Grazie. 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 Grazie.